Non è che c'è molto da dire, anche perché, come potete sentire, non ho molta voce, quindi non avrò molto da dire, se non che merda. Anche oggi abbiamo perso, pure con il Como, raga, con tutto il rispetto per il Como, ma con il Como abbiamo perso. Como casa si fa perdere con il Como? Io oggi non so se sia colpa di Pirlo, perché fondamentalmente non abbiamo neanche giocato male, l'inizio. Poi come abbiamo subito, boh, basta, mi è perso. Non è neanche sbagliato poi lì Pirlo, perché dice, boh, stiamo perdendo, metto su un'altra punta. La squadra è smesa di giocare. Allora, o i giocatori non vogliono Pirlo, stanno giocando male apposta per mandare Pirlo a fornire, cazzo. Un po' come fanno le volte alcune squadre, mi auguro di no. No, mi auguro di no, perché comunque, se stiamo scherzando, stiamo continuando a perdere. Stiamo facendo veramente un campionato imbaranzante. Forse non hanno capito bene da che parte della classifica dovremmo stare. Noi dovremmo stare tra le prime in quella alta, non in quella bassa. C'è una differenza abbastanza sostanziale. Non è che abbiamo iniziato il campionato con due punti in più? Con due punti in meno? Non è che possiamo permetterci più di tanto di dire, vabbè, è una partita. No, sto cazzo, sono già troppe partite. Cioè, abbiamo vinto la prima, bene, 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 poi basta, tutto... Operaggio sconfitto, che merda! Ma non ci siamo per un cazzo. Cioè, boh, ho l'impressione che questa squadra si affidi soltanto ai singoli, così, ogni tanto. Sperando che vada bene. Ma che cazzo fa? Ho veramente poco da dire stasera, mi dispiace.